Oggi sto preparando una ricetta talmente semplice che vi farà impazzire. Preparate il classico per aglio e olio. Ad un certo punto, quando non arriva la vostra gatta e vuole bere, fate andare il tutto. Poi prendete questa pasta fine, che sono tipo filini, e la fate andare un pochino dentro. Gli mettete un po' di quell'insaporitore vegetale, che si usa come brodo vegetale, poi aggiungete semplicemente dell'acqua. Gli date una girata. Il resto è quasi automatico. Adesso ti do da bere, amore. Aspetta un attimo. Scusate, ma la mia gatta è un aiuto buono. Tieni, amore. Lei beve e io cucino. Vai, amore, vai, vai tranquillo. Oggi, tra l'altro, l'ho messo anche il front line alla mia amiciata. Fai attenta con la testina, amore, di non bruciarti. Bevi, amore, bevi, 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 bambolino, dai. Ragazzi, la lasciate andare tipo per un paio di minuti, finché l'acqua non si riscalde, spegnete tutto. Questa pasta cuoce in due minuti. Ragazzi, io vi garantisco che è un piatto delizioso. Veramente. Trovare per credere. Un bacione, beh. Under a purple e blue Pushin' away Try to keep Thoughts at bay